siamo qua con simone travaglia il cavedine campione tu non hai giocato questa partita però cosa puoi dirci hai giocato comunque l'andata è stata molto dura più dura quasi stare in panchina che giocarle queste partite sono molto contento per i miei compagni perché veramente tutta la stagione che ce lo meritiamo secondo me perché siamo stati in testa più partita insomma però la montebaldo l'ha mai mollato e quindi bravi anche loro niente molto molto merito ai miei compagni perché io tre mesi che sono fuori ormai quindi